Due anni fa la morte di Tonino Fanesi, operaio di Giulia Nova, 49enne, schiacciato da un macchinario è diventato il simbolo delle tragedie sui luoghi di lavoro. I dati inail sono impressionanti. Ogni giorno in Italia muoiono tre persone e dall'inizio dell'anno l'Abruzzo conta già 14 vittime. Prevenzione e sicurezza dei dipendenti non sono però elementi scontati, nemmeno in un paese G8 come il nostro. Ne parliamo tra poco in diretta da Teramo.